Oltre al mondo delle moto, sono appassionato della buona cucina, auto sportive e auto da rally, di musica, di tutto lo sport e in particolare del basket, sport in generale, calcio, musica, motori, taekwondo, musica e sport, mi piace prendere il camper, la moto, la figlia, il cane e andare a fare un giro. Correre a piedi? No, non più, vado io, vado su un on-bike. La mia moto personale attualmente è una Kawasaki 1.4 GT-R, MV Agusta F4 1.78 RR e Yamaha R7. Sono tre in questo momento, una Honda Africa Twin del 1989, una BMW R1150RT del 2002 e una Suzuki DRZ400 del 2006 con scarico Leoninge, una BMW K100 dell'84, CBR600RR Honda del 2004, Kawasaki ZX-10R del 2008. Se volessi insegnare qualcosa ai ragazzi, insegnerei di fare un po' forse, di fare quello che ho fatto io, credere nelle proprie passioni che prima o poi qualcosa di buono salta fuori. A una classe di ragazzini potrei dirgli di vivere la vita intensamente, perché una sola e non buttarla via in stupidaggini, di seguire i propri sogni, perché se si ha la costanza di seguirli e di portarli avanti, potete sapere. Per me Leo Vince significa il marchio che porto sempre con me durante i miei viaggi in moto, perché appunto il mio terminale che utilizzo per la mia moto è un terminale Leo Vince. Primo scarico che ho messo sulla prima moto sportiva che ho comprato. Un marchio italiano storico, tanta tecnologia e un'immagine veramente giovane. Tanto rumore per qualcosa. Inivica Leo Vince. Uno dei compagnoli a Leo Vince innanzitutto perché è un ottimo prodotto e l'abbiamo visto in questi anni che abbiamo lavorato assieme, sono delle persone molto competenti in tutti i vari settori. Poi hanno qua un bel posto dove abbiamo scoperto adesso un bel posto e hanno qua delle belle ragazze che non guasta mai. Bisogna comprare una Leo Vince perché è un prodotto italiano, è un prodotto fatto con passione, perché è un prodotto resistente, d'altro mi sono schiattato a 150 all'ora e lo scarico è stato integro a Intonso, quindi perché non acquistare una Leo Vince. .